Nessuna lista è stata fin qui esclusa tra le 20 presentate in Abruzzo per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo, anche se alcuni schieramenti dovranno produrre integrazioni entro oggi per non essere stromessi. E questo l'esito dei controlli svolti dalle commissioni insediate presso la Corte d'Appello di L'Aquila, dove i partiti hanno presentato le proprie liste di candidati. Intanto sta per entrare nel vivo la campagna elettorale e le coalizioni e le liste presentano la propria offerta politica. Nel PD le polemiche non sono ancora sopite, l'area degli scontenti rispetto al lavoro della segreteria regionale e nazionale è vasta e le spaccature sono destinate ad allargarsi in caso di risultato negativo nelle urne. I riflessi immediati potrebbero verificarsi in regione Abruzzo, dove i dissidenti della maggioranza e della giunta, vedi Donato Di Matteo, sempre critico nei confronti del presidente D'Alfonso, candidato capolista al Senato, potrebbero anche decidere di uscire dalla giunta nel dopo elezioni e a tal proposito sarebbe pronto un documento contrario alle azioni fin qui portate avanti dal presidente della giunta regionale. Sono felice di aver appreso che il nostro presidente, su richiesta di tutti gli uomini più importanti di Roma, l'hanno indicato come il punto di forza del nostro Abruzzo per il futuro politico della nostra Italia. Per cui questo nuovo pseudo gasparismo imperante legato a un uomo così strategicamente legato al fare, o al pseudo fare, per me rappresenta un fatto positivo. Spero per lui che prima o poi capisca che i tempi sono cambiati, siamo in netto ritardo, non abbiamo fatto granché bene, per cui c'è ancora tempo, in quest'ultimo scambolo, di imporre un cambio di rotta per cercare di fare qualcosa di significativo per la gente. A stretto giro risponde a tutti il segretario regionale del Partito Democratico Marco Rapino che chiede agli iscritti al suo partito di giocare di squadra. Che avversari sono gli altri? In campagna elettorale secondo me non si tratta tanto di avere avversari, ma bisogna incontrare i cittadini, spiegare loro quello che è stato fatto e fare con umiltà questa compagna per cercare di spiegare quello che fino ad oggi non siamo riusciti a spiegare, perché se c'è stato anche questa calo nei sondaggi è perché il Partito Democratico ha fatto degli errori a tutti i livelli e adesso è l'occasione appunto con un po' di umiltà di cercare di spiegare quello che non siamo riusciti a far capire bene. Anche in Libere Uguali e la coalizione guidata di Pietro Grasso ci sono state diverse posizioni critiche rispetto alle candidature per Camera e Senato. Oggi c'è stata a Pescara la presentazione delle liste. Celeste Costantino, parlamentare uscente originaria della Calabria, spiega la razio che ha guidato la scelta dei candidati. Allora diciamo che c'è un giusto equilibrio per quanto riguarda questo collegio perché abbiamo sia espressioni di candidature che provengono direttamente dal territorio ma ci sono anche delle esperienze come nel caso per esempio della mia che provengono da altre regioni, in mio caso dalla Calabria, che si stanno mettendo a disposizione di un progetto politico. Il Partito Democratico non è un soggetto privilegiato per noi. Quello che facciamo lo facciamo in relazione a tutti tranne che alle destre che per ovvi motivi non possono assolutamente vedere nessun tipo di comunanza e nessun confronto con noi ma nel momento in cui sarà o il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico a essere il partito maggioritario in questo Paese ci confronteremo con le proposte che verranno avanzate.